Luigi e Aurelio De Laurentiis presentano il film che ha vinto il Gran Premio al Festival del Fantastico di Parigi. Il buio si avvicina. Stephen King ha tracciato le regole dell'orrore. Sam Raimi le ha infrante. Ora un nuovo e aggacciante mondo di atrocità si apre davanti a voi. Riuscirete a sopravvivere. Il buio si avvicina. Vieni qui. Farei meglio a guardarti attorno. Ma si può sapere di certo. Potrebbe anche non morire. Perché non dovrebbe morire? Non vuole la sua birra. Beviamo direttamente alla fonte. Che cosa facciamo ora? Tutto quello che vogliamo. Ma prima devi imparare a uccidere. Mei, non sono un assassino. Non devi pensare di commettere un omicidio. Devi solo seguire il tuo istinto. Vivono nelle tenebre in cerca di vittime. La notte li ha creati. La luce può distruggerli. Siete circondati. Avanti, uscite. Kale, va dentro. Jesse. Ma che diavolo sta succedendo? Papà, non sono più un essere umano. Non so più chi sono. Mei! Kale! Il buio si avvicina. È te che sta cercando. E' te che sta cercando.